In forma in 20 minuti, la pillola di benessere a cura di Training 20 per allenarsi sul posto di lavoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Millennium da Giuseppe Pacileo, Wellness Coach di Training 20. Con il passare del tempo e l'avanzare dell'età si perdono le sane abitudini come il mantenersi in forma ed allenarsi. Le cause possono essere molteplici, come ad esempio sentirsi inadeguati nel dover salenare con persone più giovani e dinamiche, oppure il non voler passare troppo tempo nelle palestre abituali e congestionate e quindi avere meno tempo di dedicare alle altre attività quotidiane più gratificanti. La difficoltà di seguire corsi preimpostati, magari molto impegnativi per la propria età e il proprio stato di salute psicofisica. Tutto questo porta ad allontanarsi dalle varie attività fisiche e di conseguenza a sentirsi sempre meno in forma e attivi. Fare attività fisica costante porta a molteplici benefici, soprattutto nei senior. Rinforza il sistema immunitario, aumenta l'aspettativa di vita e migliora l'umore. Adesso con noi potrai allenarti senza doverti preoccupare di tutto ciò. Training 20 è la nuova forma di allenamento che ti permette, in soli 20 minuti netti a settimana, di migliorare il tuo stato di salute. Tutto questo in un ambiente unico ed esclusivo, dove potersi allenare da soli o in due, nel massimo rispetto della privacy, sempre seguiti da un wellness coach, professionista di scienze motorie, che ti aiuterà e renderà l'allenamento ottimale sicuro. Training 20 è anche per te che sei a G. Alla prossima! Informa in 20 minuti! La pillola di benessere a cura di Training 20 per allenarsi sul posto di lavoro torna domani alle 15.50. Se vuoi riascoltare la puntata, vai sul sito radiomillennium.it nella sezione podcast. Grazie a tutti!